Lentini Lentini, picchiato dalle prostitute per non aver pagato e cercava il piacere, ha trovato il dolore. È stato questo l'epilogo di una storia a luci rosse per un uomo di 35 anni che ha denunciato ai carabinieri di essere stato picchiato da alcune prostitute in via Panorama Lentini nel Siracusano. . La lite è scaturita per il mancato accordo sul prezzo da pagare per la prestazione sessuale. Dopo l'aggressione le lucciole sono fuggite in aperta campagna. . Nei giorni scorsi i militari hanno identificato complessivamente 32 persone dedicate al meretricio, di cui 31 donne ed 1 transessuale, 13 rumeni, 6 italiane, 6 sudamericane, 2 albanesi, 2 slave, 2 nigeriane ed 1 ungherese, tutte di età compresa tra i 20 ed i 53 anni. . Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. .